Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che ospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, estretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di cielo, volume 28, 12 ottobre 1930. Il timore è il flagello del povero nulla, amore che nutre Dio con la creatura fino a metterla a gara con lui, come il Dio stabiliva tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature. Sono sempre nella mia cara e santa eredità del Fiat divino, sento l'estremo bisogno di non uscirne già mai, perché il mio piccolo atomo della mia esistenza sente la sua nullità e come nulla non buona a far nulla se il volere divino giocandolo non lo riempie del suo tutto, facendogli fare ciò che esso vuole. Ed ho come sento il bisogno che il volere divino mi tenga nella sua vita e Dio di starmi sempre in esso. Ora mi sentivo di non poter vivere senza il Fiat divino, tutta timore, ed il mio dolce Gesù con una bontà indicibile mi ha detto. Figlia mia, non temere, il timore è il flagello del povero nulla, in modo che il nulla che è battuto dalle fruste del timore si sente mancare e perdere la vita. Invece l'amore è lo slancio del nulla al tutto, che riempiendolo di vita divina, il nulla sente la vera vita che non è soggetta a mancare, ma sempre a vivere. Ora tu devi sapere che è tanto l'amore che nutre il nostro essere divino verso la creatura, che le diamo del nostro per metterle in condizione di poter fare a gara col suo creatore. Ecco perciò, le diamo la nostra volontà, il nostro amore, la nostra stessa vita, affinché se la faccia tutta sua per riempire il vuoto del suo nulla e così potermi dare volontà per volontà, amore per amore, vita per vita. E noi a tonta che l'abbiamo dato noi, li accettiamo come se fossero suoi, godendo che la creatura potesse farci la gara, essa a darci e noi a ricevere, per darle di nuovo ciò che ci ha dato, affinché tenesse sempre da darci. A meno che la creatura non volesse ricevere, ed allora senta il vuoto del suo nulla, senza una volontà divina che la santifica, senza l'amore che la fa portare ad amare il suo creatore, ed allora sopra di questo nulla piombano tutti i mali, fruste di timore, tenebre di terrore, piogge di tutte le miserie, debolezze che si sente mancare alla vita. Povero nulla, che non è riempito del tutto. Onde seguivo a pregare, tutta abbandonata nel dolce impero della divina volontà, ed il mio amato Gesù ha soggiunto. Figlia mia, il nostro volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature, e si costituiva vita di tutti questi atti, sicché non vi è atto umano che non tiene il suo posto nella nostra divina volontà. E quando la creatura compie ciascun atto suo, essa esce in campo d'azione nell'atto umano della creatura. Quindi vi entra nell'atto di ciascuna di esse tutta la potenza e santità di una divina volontà. Ciascun atto entrava nell'ordine di tutta la creazione prendendo ciascuno il suo posto, quasi come stelle che ciascuna tiene il suo posto sotto l'azzurro del cielo. E siccome tutto fu ordinato e formato dal nostro fiat divino nella creazione, tutto il genere umano con tutti gli atti di essi, quando la creatura fa un atto, viene mosso tutto l'ordine della creazione. Ed il nostro volere si trova in atto come se allora stesse creando tutta la creazione. Perché in esso tutto è in atto e l'atto della creatura entra nel suo atto e prendendo il suo posto stabilito da Dio si rinnovano gli effetti di tutta la creazione. E l'atto umano entra nella corsa di tutte le cose create e vi tiene il suo posto distinto ed è sempre in moto nel moto divino per adorare ed amare il suo creatore. Perciò l'operare della creatura nella nostra divina volontà si può chiamare il campo fecondo e divino della nostra stessa volontà nel piccolo campicello della creatura. Allora come dice il titolo stesso di questa meditazione abbiamo fondamentalmente in questo brano il titolo di questo scritto, quello che gli è stato dato convenzionalmente, tre ambiti di riflessione sulla base di esso. Il timore, chiamato da Gesù il flagello del povero nulla, l'amore e questo grande mistero di Dio è stato detto che stabiliva tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature. Vedremo che tutti questi temi hanno anzitutto dei riferimenti molto espliciti, molto diretti e molto chiari nella Sacra Scrittura. Io sarei tentato anzitutto di elencarli. San Giovanni dice che l'amore perfetto vince il timore e chi ancora tema non è perfetto nell'amore. Se riesco a trovare il testo, eccolo qui. Primo Giovanni 4,18. Leggendo dal versetto 16, che è meglio, si leggono queste parole in questa prima lettera di San Giovanni. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in noi. Si badi già queste espressioni, no? Che poi nel Vangelo sono tutto il Vangelo di Giovanni, rimanete in me, io in voi, rimanete in me. Cioè i verbi rimanere e dimorare, no? Quindi è chiaro che nel Vangelo di San Giovanni c'è più che un prodromo della vita nella Divina Volontà. Perché noi sappiamo che appunto si dice vivere nella Divina Volontà e così si dice rimanere in Gesù, dimorare in Dio, no? Quindi nell'analisi logica, quando si usa questa espressione, si dice complemento di stato in luogo. Cioè uno stato in un luogo. Cioè è come quando uno entra in monastero. Sapete che i monaci hanno come caratteristica la stabilità sloci. Cioè tu entri in un monastero e lì rimani fino alla morte. Ecco, cioè la vita nella Divina Volontà è qualche cosa di stabile. Va avanti, come dire, a tempo indeterminato e come situazione perpetua, costante, continua e ordinaria quando evidentemente si è raggiunto questo status. Proseguo la lettura perché dobbiamo prima parlare del timore. Per questo l'amore, versetto 17, ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi in questo mondo. 18 è il versetto che ci interessa di più. Nell'amore non c'è timore. Nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Gesù sordisce in questa meditazione definendo il timore il flaggello del povero nulla. Certo, il timore che sente Luisa è un timore un po' sui generis, no? Che cosa dice come prima cosa? Sembra che sta citando la lettera di San Giovanni, no? Sono sempre nella mia cara e santa eredita del Fiat Divino e sento l'estremo bisogno di non uscirne già mai, come quando uno entra in monastero e non esce più. Perché il mio piccolo atomo della mia esistenza sente la sua nulità e come nulla non buona a fare nulla se il volere divino non lo riempie del suo tutto, facendogli fare ciò che esso vuole. E sento il bisogno che il volere divino mi tenga nella sua vita e Dio di starmi sempre in esso. E poi mi sentivo di non poter vivere senza il Fiat Divino e tutta timore. Ed il mio dolce Gesù con una bontà di cipire mi ha detto il timore è il flaggello del povero nulla. Cioè, Luisa sta tanto bene dentro la Divina Volontà e c'è il timore, dice, oh mamma mia, ma non è che questo sogno un giorno finisce? Esco, mi ritrovo fuori. Ecco, e Gesù, facendo veramente una glossa a quello che abbiamo ascoltato da San Giovanni, dice, il timore è il flaggello del povero nulla, in modo che il nulla che è abbattuto dalle fruste del timore si sente mancare e perdere la vita. Dice invece, l'amore è lo slancio del nulla nel tutto, che riempiendolo di vita divina e nulla sente la vera vita che non è soggetta a mancare, ma sempre a vivere. Allora, ecco qua, la vita divina non è soggetta a mancare, ma sempre a vivere. Ora, noi dobbiamo sempre tenere presente una cosa, una volta che siamo dentro questo mondo, da questo mondo non si esce, a meno che non ci impazziamo. Questo è il mese del Sacro Cuore, anzi, questa è la settimana del Sacro Cuore, perché siamo già nella famosa ottava del Corpus Domini, all'interno della quale il Signore ha voluto che fosse celebrata la sua grande festa. Il discorso è questo. Santa Margherita Maria scriveva in una delle bellissime preghiere, io temo tutto dalla mia miseria e imperfezione e piccolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Come dire, l'unico timore santo che possiamo ancora conservare, insieme al timore santo di Dio, perché qui non si parla del timore santo, qui si parla del timore inteso come sinonimo di paura, quindi il timore santo di Dio è un'altra cosa, è una cosa bellissima, è appunto il timore di dispiacere al Signore anche nel minimo, il timore che purtroppo, a volte anche, pur con tutta la nostra buona volontà, a causa delle nostre innumerevoli miserie, imperfezioni, eccetera, eccetera, compiamo delle mancanze anche nel poco e ce ne accorgiamo solo dopo che le abbiamo compiute, quindi quando non possiamo farci più niente se non umiliarci davanti al Signore e dire, ecco, ahimè, ne abbiamo combinato un'altra, queste sono, diceva una santa, le erbacce del mio giardino, no? Però c'è un altro timore santo da coltivare, il timore, quello su cui ironizzava San Filippo Neri, che diceva, Signore tienimi sempre la mano sulla testa, se non Filippo si fa turco, cioè il timore che viene dalla consapevolezza proprio del nostro nulla, il nulla per noi, diceva Santa Caterina, l'ho detto tante volte, il nulla più il peccato. C'è una bellissima preghiera, io suggerisco di pensarci. Si dice che un tempo questa preghiera dalle anime sante veniva fatta la mattina, baciando ad ognuna di queste espressioni la terra, no? Sapete che il gesto del baciare la terra è proprio l'attestazione a Dio del nostro nulla. Cioè io bacio quella terra da cui sono stato tratto, e al tempo stesso diceva anche qualche santa persona in contemporanea, mentre bacio la terra bacio anche i piedi di Gesù, perché i piedi stavano sulla terra e quindi con questo gesto di forte umiliazione faccio due cose grandi, no? Quindi attesto, protesto il mio nulla e bacio i piedi a Gesù, un bellissimo gesto. Allora, le prime cose da dire al Signore dopo che l'abbiamo salutato la mattina, è proprio questo qua, io sono nulla più il peccato. Purtroppo, purtroppo, questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai, io, io Don Leonardo Maria Pompei, io, io sono responsabile della morte di Gesù, io, io l'ho ucciso. Ahimè, lo dico proprio che mi si spacca il cuore, ma purtroppo è così. E per cui, se il nostro Signore volesse stare alla stretta giustizia, avendo commesso un crimine di questo genere, per quanto riguarda la giustizia, io non merito altro che l'inferno. Quarta cosa che abbiamo detto a Dio, quindi il nulla, il peccato. Siamo assassini di Gesù, non meritiamo altro che l'inferno. E poi, la quinta è una vocazione, 5 come le 5 piaghe. Sono da me stesso, questo viene da... è un'altra variante della considerazione del nostro nulla, e ne parla molto a lungo San Luigi Maria Monforto nel Trattato della Vera Devozione. Sono da me stesso incapace di compiere alcuna azione utile alla salvezza. Da me stesso. Adesso, a prescindere dal fare o non fare questa prima mattina, i baci, queste sono cose che poi ognuno molto liberamente decide nel proprio cuore, no? Però il concetto espresso da queste invocazioni, questo deve starci nel nostro cuore. E come tutte le cose spirituali, deve costituire una convinzione profondissima vista dal Signore. Perché noi possiamo anche dire, protestare queste cose, però dire ma quale nulla, ma quale peccato, ma in fondo tutto sommato, ma che farò mai, insomma, di brutto o di grave, no? Tutto sommato ci siamo abbastanza, no? Che non esageriamo, insomma. Io mica sono un criminale, mica sono un vizioso, un grande peccatore. Eh, stiamo fuori strana, amici miei. Lontano da noi i pensieri di questo genere, perché i grandi santi, pur non essendo magari, questo speriamo che non lo siamo manco noi, dei grandi peccatori in atto, capiamo che significano quindi, che commettono peccati attuali, ma lo si ritenevano a 4.000% in potenza. Cioè, se non li faccio, è grazie al Signore che mi aiuta. Io ci metto soltanto un minimo di un po' di buona volontà, ma se non mi aiutasse Lui potrei mettercene pure una montagna di buona volontà, sarebbe la fine. Però so bene, che, se vengo poco poco, se poco poco, il nostro Signore le tira un po' di grazia, le tira un po' di mano, io faccio un 48, con 5 minuti sono capace di buttare all'aria 30 anni di vita buona, anche meno di 5 minuti, detto fra me e voi. Ecco, questo è bene che ci stia, perché questo timore è figlio, tra l'altro, della seconda cosa di cui parla il nostro Signore, dell'amore. Dell'amore perfettissimo. Dio ci ha creati come una cosa meravigliosa, ma purtroppo, questo non si dirà mai abbastanza, dobbiamo sempre essere consapevoli che in questo mondo stiamo in status interdizionis, non possiamo sapere come sarà quando veramente la Divina Volontà regnerà. Questo non lo possiamo sapere, con certezza. Possiamo sperare, certamente, che le cose vadano un pochino, un pochino, un pochino meglio. però, a mio avviso, non è mai prudente, perché qualora fossimo anche un giorno confermati in grazia, presumo che nessuno di noi ce n'abbia la certezza, insomma, perché il nostro Signore l'ha detto soltanto a pochissimi anni, e perché avere la certezza di essere confermati in grazia, di per sé è cosa molto pericolosa, perché una persona potrebbe crogiolarsi o pensare di essere diventata impeccabile, quindi immaginiamo le controindicazioni, è sempre preferibile nella vita spirituale optare per le vie maggiormente prudenti. La via maggiormente prudente è sempre questa considerazione profonda e attuale di chi sono io in questa condizione nella vita terrena, se il nostro Signore in tutti i modi, in tutto e per tutto, non mi tiene in qualche modo a bada, in piedi, tonico ed efficiente. Abbiamo parlato nell'ultima meditazione, quella bellissima, su Maria Santissima, delle gare d'amore che faceva la Madonna con il Signore, e oggi il Signore si dice che le gare le possiamo fare anche noi, perché Lui stesso ci dà come dire, una possibilità di competere con Lui, cioè è chiaro che come facciamo a fare le gare d'amore con l'Altissimo, noi siamo dinanzi all'Altissimo, cioè allora, se noi prendiamo una pulce, sappiamo che è piccola una pulce, e mettiamo la pulce in paragone con l'universo, quindi con milioni, trilioni, trilioni di anni luce e di spazio, ancora la proporzione non è sufficiente, perché la nostra distanza tra noi e Dio è ancora più grande che questa. Ecco, quindi può una pulce mettersi a fare a gara con gli spazi sterminati delle galassie, ma no, ovviamente no, non può, ecco, evidentemente, però, dice Gesù, io ti metto in condizione, ti do la mia volontà, il mio amore e la mia vita, e tu te li prendi come se fossero tuoi, e attraverso la mia volontà, il mio amore e la mia vita, allora sì che entri in competizione con me. Io prima leggendo, quando Gesù dice è così potermi dare volontà per volontà, amore per amore, vita per vita, ecco, volontà per volontà, stanno scritte tutte e due con la V maiuscola, sono stato tentato di dire volontà con la V maiuscola, ma poi dovendo leggere mi sembrava insomma di fare una cosa non corretta per il testo, diciamo, lo sottolineo dopo in sede di meditazione, è stato un attimo, e quindi attraverso questo dono fatto da Dio stesso noi possiamo ricambiare e competere con Dio in amore, certamente, attenzione, mettendoci del nostro, perché io faccio funzionare in me la divina volontà come me, non so se riesco a farmi capire, no, perché non è che la divina volontà spersonalizza una persona, anzi, ne esalta le peculiarità, le caratteristiche personali, però ci si muove in questo ambito, quindi i miei piccoli atti di amore, i miei piccoli gesti di attenzione, di riverenza, di adorazione nei confronti del Signore, di per sé sono come gli atti di una pulce nei confronti di chi è più grande dell'universo, ecco, però quella piccola pulcetta nostro Signore ha un occhio particolare per quella piccola pulcetta, no, ecco, e quindi dà la possibilità a quella piccola pulcetta di rimanere se stessa, ecco, ma nel rimanere se stessa, anzi, nel dovere essere se stessa, dare a Dio un amore come quello che si merita, come quello che è proporzionato alla sua grandezza, come quello che gli è dovuto, ecco, un'altra frase biblica che è attinente con la terza e l'ultima parte della predicazione si trova nella lettera di San Paolo agli Efesini, a un certo punto l'Apostolo dice nel versetto 10 dopo aver detto per questa grazia siete salvi mediante la fede ciò non viene da voi ma dono di Dio non viene dalle opere perché nessuno possa avvantarsi dice questa frase, una frase misteriosa che però Gesù ci dà l'interpretazione autentica nell'ultima parte della meditazione siamo infatti opera sua creati in Cristo Gesù per le opere buone attenzione che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo capite? cosa dice Gesù? il nostro volere nel creare l'uomo stabiliva già tutti gli atti che dovevano fare tutte le creature e si costituita vivati tutti questi atti allora questo non dobbiamo dimenticarlo mai allora e anche qui risolviamo cioè adesso richiariamo un pochino questa cosa qui è chiaro che stiamo sempre volando su vette altissime ricordate sempre che io più anni passano più comprendo che di Dio delle sue cose del suo mondo possiamo appena appena balbettare qualcosa perché di Dio conosciamo piuttosto ciò che non è che non ciò che è quindi occorre sempre essere molto molto cauti accorti moderati ecco nel parlare senza 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 sparare troppo grosso ecco come se tutto quante fosse alla nostra portata se fossimo diventati grandi esperti di quello che Dio fa lungi da me quantomeno una stupidaggine del genere che il Signore sempre mi aiuti no ecco però da quello che è dato comprendere dalla rivelazione e dalle specificazioni che sono perfettamente in linea con la rivelazione fatta da Misa è questo San Paolo altrove scrive che noi siamo stati pensati in Cristo da prima della creazione del mondo tutti chiunque mi stia sentendo sarà nato se mi sta sentendo certamente non prima del 1900 facciamo 30 credo che mi stia ascoltando qualcuno che già abbia oltre 90 anni ecco ma attenzione io te chiunque tu sia siamo stati pensati dalla Santissima Trinità in Cristo cioè in relazione a quello che sarebbe stato il mio necessario rapporto con Cristo perché è Cristo il capo stipido dell'umanità è Cristo anche il Redentore poi quindi non abbiamo noi una vita concepibile in maniera indipendente dal nostro Signore Gesù Cristo sia che lo sappiamo sia che non lo sappiamo sia che ci crediamo sia che non ci crediamo sia addirittura che lo vogliamo o che non lo vogliamo sotto certi punti di vista siamo nati in un certo momento storico perché perché il Signore voleva che noi venissimo sulla terra in questo preciso momento storico in questo contesto a contatto con queste persone cioè capite anche le relazioni spirituali che si determinano cioè il nostro Signore presumibilmente se qualcuno sta ascoltando e trae giovamento da queste parole che sto dicendo questo si legge bene si vede bene anche nel libro di Tenera Amato è perché il rapporto spirituale evidentemente che c'è tra il sacerdote X e l'anima Y è stato stabilito dal Signore cioè se c'è un rapporto stabilito dal Signore tu sarai aiutato da quello che dico io ma non perché lo dico io perché sono chissà chi o chissà che cosa ma perché c'è questo legame soprannaturale divino stabilito dall'alto per cui se io non facessi quello che devo fare così capiamo anche alcune cose le persone che il Signore misteriosamente io dico queste cose sempre con estremo imbarazzo ma devo ammettere che è così che mi ha affidato non riceverebbero delle grazie e dei doni è così e cosa sono queste? queste sono sicuramente alcune delle opere buone messe poi nelle mani del sottoscritto diventano sempre mezzi pastrocchi che fanno proprio cioè sì se può forse ricapare qualcosa di buono ma in mezzo a tanti di quelli sforondoni e cose di questo genere lasciamo perdere comunque queste sono state pensate da Dio e sono in un certo senso già tutte scritte però attenzione quando si fanno questi discorsi il fatto che queste opere siano tutte e tante scritte non vuol dire che esista quello che i pagani chiamano il destino cioè sono state scritte ah quindi io sicuramente le farò tutte quante così come sono state scritte assolutamente no assolutamente no perché se questo fosse saremmo tutti santi nessuno di noi sarebbe un peccatore perché Dio non scrive nelle cose che ha scritto per noi peccati miserie imperfezioni o strafalcioni quelli scriviamo noi quelli là non scrive Dio è per questo che nell'Apocalisse si parla del libro della vita e dei libri che poi vengono aperti ok vabbè adesso non apriamo troppo il discorso se non diventa troppo allora però anche per esempio tutta la tematica di rifare gli atti nella divina volontà che cosa significa? significa che nella mente di Dio questo è un concetto grande trascendente per noi ma è quello che si capisce dal combinato disposto dicono i giuristi di quello che ci viene dalla rivelazione e gli scritti di Luisa cioè ogni istante dopo istante secondo dopo secondo minuto dopo dopo minuto la nostra vita è già stata tutta scritta e progettata nella mente di Dio però bisogna vedere se quello che io realmente poi faccio è corrisponde a quello che Dio ha progettato e io l'ho detto tante volte questo qui probabilmente qualcuno delle persone che mi segue l'ha già sentito in qualche modo in qualche cosa era il Cardinal Petrocchi che ci diceva sempre facendosi l'esempio ma non si può vedere via audio questo video non avrà insomma il video ma ci faceva l'esempio del giudizio particolare come delle due mani immaginiamo di mettere la mano destra e la mano sinistra se uno congiunge le mani come se stesse pregando quindi le sovrappone in modo tale che le dita delle mani vadano perfettamente a coincidere la sinistra sulla destra quindi che se tu le guardi da una parte o dall'altra ne vedi una sola se le guardi di qua o di là perché sono in perfetta aderenza e coincidenza ecco quella è una vita diciamo questa è la vita della Madonna perché la coincidenza proprio perfetta è realizzata dalla Madonna poi noi capiamo ci possono essere vari livelli di incongruenza magari qualche dito è leggermente spostato quindi se tu guardi da una parte o dall'altra si vede qualche come dire qualche non coincidenza dei confini queste sono le piccole imperfezioni che hanno caratterizzato la vita che ne so dei grandissimi santi sono stato un padre pio o cose di questo genere qui poi può essere anche che la mano è un pochino girata quindi i punti di convergenza tra queste due mani sono praticamente infiniti bisogna vedere quanti ce ne sono meno ce ne sono e meno noi abbiamo fatto quello che Dio voleva quindi meno siamo diventati santi quindi meno siamo diventati felici in questa terra e quindi meno in alto andremo in gloria se Dio non voglia le mani fossero staccate l'una dall'altra che cosa significa? significa che la mia vita è stata proprio completamente un'altra cosa rispetto a quella che aveva pensato all'altissimo e capiamo bene che questa è la condizione che vivono le anime che poi se ne vanno dritte dritte all'inferno in cui proprio non c'è proprio nessun punto di contatto zero ecco allora questo da un lato ci dà consolazione perché le nostre opere buone sono state già predisposte però dice San Paolo da Dio perché noi le praticassimo quindi le dobbiamo scoprire e poi giorno dopo giorno attimo dopo attimo istante per istante compiere è chiaro che se io purtroppo per una parte della mia esistenza ho fatto guai grossi o strafalcioni sicuramente non ho collimato col disegno di Dio ecco ma sappiamo questo l'ho spiegato tante volte che che cosa si fa in questi casi punto primo Dio vuole che ci pentiamo e che li piangiamo i nostri peccati e che li confessiamo con sincero penitenza il pentimento secondo che facciamo penitenza per quei peccati quindi che soddisfiamo la divina giustizia per averla offesa terzo qualora questi peccati avessero arregato danni che siano riparati la riparazione tutto questo già ci rimette in condizione ma quarto e questo è il dono della divina volontà noi possiamo con un esercizio spirituale quindi chiedere al Signore di fare nostri quegli atti che Lui aveva già predisposto quindi quelle opere buone che la sua divina volontà è predisposto e compiuta in essa che io avrei dovuto fare in quei momenti in cui purtroppo sono andato a Dio dal peccato e che non ho fatto è chiaro che da oggi in poi cercherò di fare in modo evidentemente che questa coincidenza sia il più aderente possibile e quindi facendo la divina volontà operando nella divina volontà pregando nella divina volontà amando nella divina volontà eccetera ecco questo più o meno mi sembra che siano le cose importanti ecco da ritenere da questo scritto di oggi e poi da portarci se crediamo dietro nella nostra preghiera personale che è un grande grazie un grande grazie Signore Gesù per tutto quello che ci ha donato in questa meditazione aiutaci come sempre a custodire nel cuore a far scendere nel profondo del nostro essere e che tutto quello che tu ci hai detto e insegnato diventi vita della nostra vita si fissi nel fondo della nostra anima si ha la radice delle nostre azioni dei nostri pensieri in modo che anche oggi possiamo mettere un altro piccolo tassello nella nostra grande aspirazione di vivere sempre più e sempre meglio nella tua santa e divina volontà nella divina volontà in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen. Fiat Ave Maria.